Degustare il vino è come incontrare una persona e quindi coinvolge tutti i nostri sensi e così come nel nostro volto sono disposti abbiamo gli occhi abbiamo il naso abbiamo una bocca e gli occhi sono la prima cosa che ci serve per scoprire un vino il colore e le sue sfumature dettagli l'acidità la freschezza e in questo momento anche se non ci rendiamo conto soprattutto quando abbiamo bicchiere sotto il naso già comincia in realtà a funzionare il nostro naso il nostro senso più antico e più ancestrale già il profumo di un vino bianco ci ricorda un floreale bianco ti ricorda un gelsomino ci ricorda dei limoni della frutta gialla e a seconda della sua freschezza più o meno la maturità anche del frutto pensiamo a un vino rosso un vino rosso anche questo quando ce l'abbiamo sotto il naso già ci vengono in mente certo tipo di frutto se poi siamo bravi magari riusciamo a mettere collegamento con la ciliegia col sangiovese il mirtillo col cabernet il lampone che ci può ricordare il merlot e quindi abbiamo già un'impressione molto importante di quello che abbiamo nel bicchiere poi coinvolgiamo la bocca assaggiamo ed ecco che tutte le altre sensazioni prendono corpo quindi l'acidità la struttura la sensazione alcolica e anche la freschezza data dall'acidità ed ecco che occhio naso e bocca sono tutte e tre coinvolti nella scoperta di un vino come quando scopriamo una persona alla fine no 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 Grazie a tutti.